Lo facciamo anche per il suo proprietario, nel rispetto di come ha allevato questo cagnone e di quanto gli ha voluto bene. Speriamo che ci sia qualcuno che faccia la stessa cosa da adesso in poi. È l'appello lanciato da Elena Castelli, veterinaria e responsabile del canile consortile di Vaiano Cremasco, Sogni Felici. E il suo sogno, insieme ai volontari ed operatori che gestiscono il canile rifugio, affidato alla società Aurora SRL, è quello di dare una casa e una famiglia a Black, canemeticcio di 46 kg, dolcissimo dal carattere speciale, arrivato al canile a fine dicembre 2022 per la morte del suo padrone. Purtroppo è in canile perché il proprietario è mancato improvvisamente. Oltretutto Black è stato vicino a vegliarlo per giorni, prima che lo trovassero. Ma è arrivato, si è adattato immediatamente all'affetto nostro, dei volontari e degli operatori, però è proprio un cane da famiglia. Gli manca tantissimo la quotidianità di una persona sempre presente. Solo la morte poteva dividerli. Il regalo più bello che si può fare a Black e al suo padrone è quello di circondarlo ancora di tanto amore e affetto, che Black sa abbondantemente ricambiare. Ha un carattere veramente speciale. Si vede che anche questa persona gli ha dato tutto e soprattutto non l'avrebbe mai lasciato. Al canile di Vaiano attualmente ci sono 18 cani in attesa di essere adottati. Raccomanda tuttavia ai proprietari dei cani di sterilizzarli. Troppi sono ancora i cuccioli appena nati, abbandonati. Abbiamo avuto nei primi mesi di ingresso ad agosto tantissimi ingressi di cuccioli. Stiamo parlando di ricollocare, da quest'estate erano quasi 60. Preferirai vederne meno e che le persone fossero un po' più sensibili al tema della sterilizzazione.